hai un problema con la tua identità perché un vuoto t'ha tirato da una parte sbagliata tirato la tua libido da parte storta e perversa è normale è che questo è una cosa così allora io sono fatto così tutto storto c'è un problema di 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 perversione sessuale no è normale diciamo che è normale fa bene ti sfoghi te calmi così no è che non so risolvere i problemi allora diciamo che un matrimonio è in crisi è normale vi separate è meglio perché nessuno ha amore nel cuore perché questi poveretti non potranno fare di meglio guardate ascoltatemi io non sto dicendo brutti zazzoni che si dividono si separano che si consegnano a perversioni sessuali come se peraltro fossero solamente questi peccati sono molti altri no io dico non possono fare di meglio solo dio può riempire quel vuoto sto nella basilica di sant'agostino e lui lo dice solo dio riempie il mio vuoto cos'è il perdono dei peccati che dio mi ama dio mi ama dio ti ama e non è una chiacchiera dovremmo vedere adesso nell'ultima parte di questa spiegazione piena di pecche che è giustamente che che vi ho fatto dovremmo vedere com'è che forma ha il battesimo che è il perdono dei peccati ma guardate l'uomo si risolve per l'amore di dio il tuo problema col futuro lo risolve solo l'amore di dio il tuo problema col passato lo scioglie lo dipana lo illumina lo scalda lo scioglie definitivamente nella sua essenza pietrificata e gelida solo la potenza dell'amore di dio che entra in te perché dovete capire una cosa noi pensiamo all'amore di dio come un evento affettivo e qui devo spiegare una cosa che ho detto miliardi di volte allora l'amore di dio è la sua misericordia guardate quanto parla della misericordia il nostro amatissimo santo padre francesco allora e quanto ne ha parlato benetto sedicesimo e quanto ne ha parlato la bellissima enciclica dire se misericordia ricco di misericordia di giovanni paolo secondo proprio questi giorni papa francesco ha ricordato questa cosa che è fondamentale che è legata un pochino all'etimologia delle parole misericordia che vuol dire in latino misericordia ha dentro cor cordis cuore cardiaco misericordia sentite che stiamo da quelle parti lì allora come pensiamo dio ti perdona e tu dici è un problema suo cioè è una è un moto affettivo che lui ha dio ti ama vabbè c'era pure una ragazza racchia come la fame che mi amava ma era un po che è rimasto a lei problema ecco non è questo l'amore di dio la misericordia di dio non è questo cioè l'amore di dio non è che adesso per questo ho fatto tutto sto discorso perché così vi posso parlare un po realmente del cambiamento dell'uomo di ciò che ti fa diventare l'uomo un vulcano di vita non è il fatto che dio ti voglia tanto bene che mette il lucchetto a ponte milvio con te e vive una cosa una cosa amicione con te che ti vogliamo tanto bene non è questo questo è l'amore non è affetto l'amore anche affetto l'amore anche sentimento l'amore è un atto l'amore è un atto o lo fai o non lo fai cioè se tu ami una persona fai qualcosa per lui per lei hai una relazione concreta l'amore è un'azione non è uno stato d'animo implica anche uno stato d'animo ma quello stato d'animo se resta tale non è amore non amiamo a parole ma nei fatti e nella verità dice la prima lettera di giovanni allora che vuol dire l'amore di dio è un po diverso dalla da concetto latino di misericordia in ebraico si dice rachamim rachamim se lo devi dire bene ti devi mettere il fassoletto davanti no perché allora rachamim viene da rechem che vuol dire utero cioè mentre in latino noi lo colleghiamo a un organo che è l'organo che pompa il sangue in ebraico l'amore di dio la rachamim dio è collegata all'unico organo che generi la vita umana l'utero femminile per questo ricordavo questi giorni papa francesco dio ha un amore materno certo perché un amore che genera quando dio ti ama non usa il cuore all'utero per farti capire un linguaggio antropomorfico per farti capire che quello che fa si relaziona a te con quell'organo che ti fa rinascere nessuno che non rinasca dall'alto può vedere il regno di dio cioè dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito e sta facendo lo stesso discorso cioè l'amore di dio per me l'amore di dio non è stato sentirmi inondato dai suoi sentimenti nei miei confronti ma vedermi operare dentro la gloria di dio che cambiava radicalmente il mio essere e che poneva in me una vita che io non avevo una vita che urlava il suo amore era occuparsi di me io ho fatto per grazia di dio esperienza del suo amore non sono cristiano che è molto più importante che essere prete se sono cristiano e non sono prete sono comunque figlio di dio se sono prete ma non sono cristiano su un pericolo pubblico speriamo di essere cristiano quindi prete allora sono cristiano per grazia perché il dio mi ha toccato col suo amore gratuitamente ho belato come una pecora perduta ho chiesto disperatamente aiuto ho ammesso la mia povertà ho detto non ce la faccio più perché è molto importante sapete questa è un'epoca io ho parlato molto contro questa epoca però questa epoca è fecondissima guardate perché la gente a forza di fare le porcherie che sta facendo soffre tanto e inizia a gridare questa è un'epoca in cui evangelizzare è molto facile mi dicono che è difficile non lo capisco io non so dove mette la gente no la gente è stanca è stanca questo vuoto pesa gli inganni a un dato momento se svelano dice ma che sto vivendo a fare non ce la faccio più ho distrutto un matrimonio abbandonato dei figli ho distrutto le mie amicizie mi sono ammazzato con il lavoro ma che campo a fare arrivano poveretti chiedono aiuto belano povere pecore e dicono noi la faccio più ed è importante questo e allora quando un uomo smette di inseguire la sua illusione di essere capace di risolvere il suo vuoto da solo con le sue qualità allora finalmente apre la porta per uno spiraglietto dicono i rabbini apritemi una porta larga quanto un capocchio di spillo io entrerò con carri e cavalli perché di è così a lui basta un piccolo sì gli abbasta un modo del tuo cuore per venire se quel modo di cuore è autentico se sei stufo di vivere di te stesso cioè nella solitudine nella legazione nella negazione del prosopon dell'essere persona di essere un volto verso un altro volto e che succede succede che uno sperimenta la potenza di dio la sperimenta nel battesimo cercherò di terminare fra un po spiegandovi perché io adesso mi piacerebbe parlarvi che cos'è l'esplosione della redenzione la vita che cambia tu che diventi un altro diceva benedetto sedicesimo io non più io perché non sono più solo non sono più solo in qualunque cosa faccio dialogo con cristo dialogo col padre dialogo con lo spirito siamo un sacco da gente qua è una cosa fantastica e non c'è un luogo non c'è luogo dove la mia solitudine sia più vera cristo è entrato nell'abbandono del peccato perché io ne uscissi cristo è entrato nel nulla della morte perché io ne uscissi ecco l'agnero di dio che prende su di sé il peccato del mondo ecco colui che si prende il tuo vuoto su di sé lo sperimenta andando sulla croce morendo come un malfattore dio lo trattò da peccato in favore nostro bene però come ti spiego questo allora io adesso velocemente vorrei ricordarvi come la chiesa celebra il battesimo cioè il perdono dei peccati e alla fine vi dirò perché è uno solo allora io adesso seguirò l'attuale rito del battesimo dei bambini semplice ho battesato tanti adulti la grazia di dio mi ha consentito di fare questa esperienza di portare tanti adulti al battesimo sono proprio grato a dio di questa esperienza meravigliosa ma battesimo i bambini tiene secondo il nuovo rito poi sarebbe bellissimo vedere come era fatto un tempo ce ne frega niente la chiesa adesso lo dà così e funziona garantisco il mio sta funzionando penso pure il vostro e se ancora non ha funzionato dai coraggio che dio non vede l'ora di porre la sua gloria nella tua anima di riempire il tuo vuoto con il suo amore che ti rigenera come chi si rigenera si è stato presentato tutti quanti voi siete stati battesati con questo rito io probabilmente un rito un po diverso ma invece voi così perché siete appunto giovanotti e quelli che non lo siete male per voi allora no ormai ci siete allora la prima cosa che è stata fatta quando siete arrivati e il prede ha detto che nome date al vostro bambino e perché è perché sennò poi chiamava dopo no perché c'è il nome di battesimo molti adulti che vengono e venivano battezzati cambiano il nome perché ti si chiamerà con un nome nuovo che la bocca del signore avrà indicato il nome di battesimo molte volte coincide con il tuo nome diciamo così profano ma in realtà è il nome per esempio noi diamo nomi di santi ai bambini perché perché li colleghiamo a una a un'esperienza di potenza di dio che abbiamo già visto in qualcun altro allora perché il papa che si chiamava giuseppe che non è un brutto nome san giuseppe però baseria se voluto chiamare francesco è perché francesco è è una bella opera di dio no e c'ha tutti preso perché è bello un papa che si chiama francesco è bene allora che succede il tuo nome prima cosa che fa il battesimo ridisegna chi sei tu tu devi scoprire chi sei per dio non lo sai non lo sai è una scoperta che ti cambia io non sapevo di essere quello che voi avete davanti ma lo ero era nascosto in me era con io che potevo diventare questo uomo di chiesa che sono spero uomo di dio dio ha voluto fare delle cose belle nella mia vita io non lo sapevo che poteva farle che bello che dono che regalo che meraviglia e devo anche possederle queste cose non essere così falsamente umile dire no 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 dio l'ha fatte nella mia vita queste cose ricordate le cose belle che ti ho fatto nella vostra vita siate nei fieri è importante ancora la seconda cosa che ha fatto la chiesa ha posto la croce sulla fronte e anche tuo padre tua madre l'hanno dovuto fare i tuoi padrini che vuol dire che nel battesimo devi imparare che hai un nome nuovo e imparare a ragionare secondo questa cosa qui a ragionare ricordando credendo pensando a questo signore qui mai dimenticarlo e questo signore ti ama senza condizioni quindi sei entrato sei stato accolto nell'assemblea della chiesa questi riti vengono fatti all'ingresso della chiesa poi si viene accolti e la cosa che viene fatta a questo punto è un esorcismo perché guardate una cosa cosa significa questo esorcismo c'è qualcuno che caccia cioè ci sta il bambino su bambino viene fatto esorcismo dice che c'è stata esorcizzata questa creatura che è così piccola oddio i genitori qualche volta dicono beh forse ci vorrà esorcismo schista notte questo che è successo questo ma non è quello il senso il problema è che questo è un linguaggio potente viene regalato l'esorcismo è un dono perché io non vinco il maligno da solo ho bisogno della potenza di dio nessuno vince il male da solo l'esorcismo proclama che arriva la chiesa che in nome del suo signore del suo sposo essendo la sposa dell'agnello può vincere il maligno ma perché l'agnello la vince perché il signore la vince cioè attento questo è liberante nello stesso tempo umile solo dio vince il maligno non tu non lo affrontare da solo ed è radicale il cambiamento quando tu smetti di affrontare le tue tentazioni da solo e le affronti invece appoggiandoti in dio propriamente quello significa quella richiesta del padre nostro non ci indurre in tentazione la nuova traduzione mette non ci abbandonare nella tentazione il senso di quella frase che non è facile per niente da tradurre è nel momento della tentazione non ci lasciare soli perché dio ci vuole lasciare soli no perché tu gli dici lasciami da solo questa ma sbrigo da solo perché guardate che molti peccati l'avete fatti per superbia perché dicevate questo ci penso io che ci pensi tu nel tuo battesimo c'è un esorcismo perché il male lo vince solo dio l'uomo con la sua forza con la sua coerenza ma andò va ma guarda che cos'è l'umanità in che ipocrisia si risolve e poi e poi ti ha dato un'arma un'arma e che è un fucile e che è un cortello e un non so un cannone che è un'arma che sarà una spada ti ha unto il petto ma perché questa è l'arma bello contento eh ti insegna com'è il combattimento il combattimento battesimale queste sono le cose nel battesimo questo è il perdono dei peccati questo spiega il perdono dei peccati allora tu prendi l'olio sul petto che è pure stramba come cosa no perché ma mai fatto è l'olio dei lottatori è l'unguento dei lottatori cioè era quello che si mettevano i lottatori per sfuggire la presa dell'avversario perché si tratta di sfuggire la tua arma è sfuggire non entrare in dialogo col maligno questa è l'arma non entrare in dialogo con la tentazione ma tu sfuggi ma andai finito tu sgusciante sottraiti al male molte battaglie non si devono combattere c'è la buona battaglia e mille battaglie sbagliate si va dove dio ti indica non entrare in dialogo col maligno con la tentazione ti frega è otto miliardi di volte più furbo di te non si batte a intelligenza si batte con l'umiltà quello lui non la conosce quello proprio non sa che è lui l'umiltà resta così e poi quando c'è l'umiltà arriva subito dio perché dove c'è l'umile abita dio allora l'arma per vivere il perdono dei peccati è l'olio dei lottatori che sfuggono che si sottraggono quindi a questo punto logicamente c'è stata la programmazione della parola di dio perché certo che è un'opera che viene dalla parola di dio dalla sua potenza dal suo creare il mondo si prega e si invocano pure i santi perché perché nessuno di noi ce la potrà mai fare da solo non solo solo rispetto a dio anche non ce la fa da solo senza la chiesa non puoi mai affrontare la grande sfida del tuo vuoto e vincerla se non perché sperimenti l'amore di dio e la maternità della chiesa hai bisogno dei sacramenti hai bisogno del suo aiuto hai bisogno della sua guida ma chi va da solo e te credi io ho bisogno di un confessore con cui mi confronto continuamente ma che siamo impazziti ma come si fa a vivere senza l'amore di dio ma come si fa a vivere senza l'amore dei fratelli ma certamente no abbiamo bisogno della sapienza della chiesa abbiamo bisogno dei santi avete qualche santo che lo state invocando visto che stiamo qua Santa Cusino è roba buona che te credi io domani appunto dovrò presiedere l'anniversario del passaggio al cielo di Chiara quando un anno fa sono stato sotto la mannaia del tumore, del cancro io ho chiesto aiuto esattamente un mese dopo la sua morte ho ricevuto una grazia spirituale meravigliosa che è una delle più grandi della mia vita e io penso che lei c'entra con tutto questo e anche i miei santi io sono stato battezzato il giorno di San Francesco e me lo tengo stretto infatti mi hanno dato a far rettore della chiesa delle Sacre Stimmate a Largo Argentina e io me lo tengo buono San Francesco che sono scemo me lo tengo tutto stretto sono nato il giorno di Santa Teresina di Lisie tutte le messe oh, oh sono nato un giorno che tu eh, sei passato al cielo eh, 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 oh tu ricordi il suo prete? sì, eh, dagli una mano certamente abbiamo bisogno di aiuto quanto è bello chiedere aiuto i superbi non sanno cos'è gli umili sanno quanto è bello oh, a questo punto la chiesa ha fatto un'invocazione sull'acqua l'acqua nella scrittura rappresenta il nulla la morte dove l'uomo non vive perché ricordando le immagini della creazione quando le acque si devono separare perché appaglia la vita le immagini del diluvio quando l'acqua si deve ritirare perché la vita risorga del Mar Rosso quando l'acqua si deve aprire perché un popolo si è liberato noi scopriamo che il battesimo cioè essere immersi nel nulla come un'esperienza in cui entreresti in qualcosa che ti dovrebbe uccidere e esci vivo perché sei entrato nel nome di Cristo perché questa è l'esperienza che cambia il nostro nulla l'esperienza della presenza di Dio lì dove prima non potevamo entrare quello che illumina il nostro essere è entrare nelle acque del battesimo e infatti il battizzo mai il verbo da cui il battesimo vorrebbe dire immergere mi immergo cioè entrare fino in fondo la forma di cui quando si può si può fare il battesimo dei bambini e quando non degli adulti è l'immersione proprio ho fatti tanti il battesimo per immersione è bello gli orientali per esempio hanno delle forme di immersione bello entrare fino in fondo dove non si respira è uscire è un segno che rappresenta che cosa ho avuto un tumore un anno fa ed è stata una grazia immensa sono stato calunniato più volte nella mia vita ed è stata una grazia molto grande ho patito in giustizia e Dio è stato con me se anche camminassi per una valle oscura non temerei alcun male perché tu sei con me ho scoperto che nella tempesta della vita il Signore programma il suo nome ho scoperto che la sua gloria essere vittorioso su ciò che mi fa paura è quello che mi cambia l'essere il battesimo l'esperienza di entrare qualcosa che mi è stato dato da piccolino il 4 ottobre 1961 sono stato battezzato quella cosa è vera è potente nella mia vita veramente nel nome di Cristo io posso entrare nelle cose che temo e più cresce questo mio consegnarmi a Lui più cambia il mio essere e io non sono più solo perché ciò che mi separa dagli altri è la mia paura del nulla è la mia paura del vuoto che mi costringe a diventare un egoista ma se questo vuoto si riempie dell'amore di Dio sto a dirlo da 3 ore e allora a quel punto siamo stati battezzati dopo che no prima bisognava progressare la fede che sto dicendo bisogna rinunciare a Satana bisogna rinunciare a Satan Satan è l'accusatore in ebraico questo vuol dire la parola Satan quella voce che ti dice tu fai schifo era meglio se non ci stavi sei di troppo guarda che porcheria che sei quella voce è più profonda della tua superbia la tua superbia è una copertura della tua vergogna la tua verità è la tua vergogna la verità è che quello è il demonio che parla così diaballo diabolos colui che separa da Dio colui che è uno spirito e suggerisce al tuo cuore che fai schifo che fai male che non vai bene che non servi a niente questa voce questa voce rinnegala questa voce produce infelicità è quella cosa che produce il vuoto dentro di te rinunciate a Satana diteglielo rinuncio a te alle tue seduzioni ai tuoi inganni vattene via vattene la mia vita voce triste voce cattiva che mi parli male di Dio ma soprattutto mi parli male di me che è la stessa cosa perché se Dio non è buono io sono una sua creatura e so sfatto male se Dio è buono io sono una sua opera è la stessa cosa è la stessa operazione allora prima del battesimo bisogna rinunciare al maligno e bisogna professare la fede questa che stiamo spiegando dire credo in Dio Padre Onipotente credo in Gesù Cristo credo allo Spirito Santo tutte queste cose qua e che vuol dire credo c'è sta Dio io ci credo perché no meglio che c'è sta che non c'è sta no non vuol dire questo credere credere vuol dire appoggiarsi in qualcosa appoggiarsi in qualcuno io credo in questo inginocchiatoio adesso sto scaricando tutto il mio peso su questo inginocchiatoio questo è un reggese che andrei per terra lui sta credendo a quella sedia a quella panca eh uno ti sta credendo a quella balausta ti stai appoggiando quando è l'ultimo che ti sei appoggiato in Dio? hai creduto in Lui credere in Dio di riappoggiarsi in Lui e scoprire che regge è tosto non delude non delude Dio ha scritto una lettera chiara al primo compleanno per il primo compleanno di Francesco suo figlio eh che lei non ha visto questo primo compleanno ha scritto una lettera e finiva così fidati credimi ne vale la pena fidati di Dio credimi ne vale la pena ed è morta serena è passata al padre piena di luce ne vale la pena non delude dalla vita piena quella che un tumore non ti può togliere quella che la morte non ti può togliere dopo che vieni battezzato vieni unto col crisma perché vieni investito di un ruolo sei un re un sacerdote un profeta è una consagrazione del tuo essere tu non sei vero finché non sei questo tu non sei vera finché non ragioni come una principessa questa è la verità tutti i tuoi peccati chiedono che tu ragioni come uno schiavo come un pezzente come uno sguattero devi imparare a ragionare come un principe come un figlio di Dio e devi capire ricordare sapere di essere consagrato per avere una relazione con Dio un sacerdote è quello che è intimo a Dio è colui che fa da ponte agli altri per Dio e tu sei uno che ha intimità con Dio ti spetta e sei un profeta sei chiamato a capire quello che ti succede a capire quello che Dio fa con te dopo di questo ti hanno dato una veste candida un'altra veste quante vesti che ti metti addosso quanti ruoli che la vita ti dà sono tutti falsi l'unica vera veste è la luce la luce di cui sei stato rivestito nel tuo battesimo una veste candida che significa io sono luce tu sei luce mannaggia che non lo credi tu sei luce del mondo tu sei chiarezza per il mondo tu sei nato per fare qualcosa di buono questo urla il tuo battesimo per essere un re un sacerdote un profeta vestito di bianco che ha una candela in mano cosa vuol dire quella è la fede una candela bisogna accenderla da qualche parte quella candela va accesa al cielo pasquale alla vittoria di Cristo è la nostra fede che poi devi proteggere perché non si spenga la fede va protetta e che succede? e se si spegne? e si è spenta la candela torna a cerare e accendi scemo e cioè la fede si costodisce e si riaccende e c'è uno che sta seduto qua e dice non sopra di farla però no io non ce la farò mai vai da qualcuno che è un attimino più acceso di te che ti vedo un pochetto spento stai con qualcuno che ce l'ha un po' accesa vai al cielo pasquale a riaccendere è interessante che te la consegnano sempre questa candela la fede te la consegna la chiesa la fede te la insegna qualcuno io devo andare da mio padre spirituale per riaccendere la mia candela quando la spengo con i miei peccati io devo andare da chi è cristiano insieme con me per alimentare la mia fede per riaccendere la mia candela anche tu impara a farlo la vita nuova si riaccende si può sempre riaccendere l'ultima cosa che viene fatta nel battesimo viene toccata la bocca e l'orecchio perché i tuoi sensi siano consagrati perché tutte le tue vie di comunicazione divengano redente che vuol dire guardare con occhi nuovi ascoltare con orecchie umili toccare e percepire con amore e gustare sapendo cosa è buono e cosa è cattivo è tutto il problema del discernimento saper vedere saper ascoltare saper percepire avere naso avere fiuto non vi spiego i cinque sensi ci mettere tanto tempo io fondamentalmente vorrei finire spiegandovi perché è uno solo il battesimo credo in un solo battesimo in un solo battesimo sapete perché perché l'amore di Dio è irrevocabile perché una volta che Dio ti ha accordato il perdono lui non cambia idea puoi solamente tu rifiutare questo ma quando anche debolmente ti rivolgi al suo perdono lui ha già perdonato quello che forse devi fare è riaprirti al perdono come ha detto Papa Francesco Dio non si stanca di perdonare è tuo padre ti ama sempre noi ci stanchiamo di chiedere perdono non ci stanchiamo di chiedere perdono sapete perché battesimo è uno solo non bisogna ripeterlo perché è sempre potente sta sempre lì è un vulcano che sta nella tua vita il tuo battesimo quello che riempirà il tuo voto della presenza di Dio sta lì sta già lì non crediate che dovete andare chissà dove il battesimo è uno solo si dà un battesimo e ce l'hai per sempre sapete ci stanno sti sti sonati di Capoccia che chiedono lo sbattezzo quando chiedono lo sbattezzo questi qua che normalmente sono storie un po' particolari questi qua chiedono allora la chiesa gli risponde il battesimo essendo un fatto storico avvenuto non è che possiamo dire non è avvenuto è dato e non è mai più revocato tu noi prendiamo atto che lei non si riconosce più nella chiesa cattolica stop mi spieghi come è come dire non c'è stata la seconda guerra mondiale non c'è stata 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 non sono stato battezzato non sono stato battezzato sei stato battezzato è un fatto è successo un fatto storico no 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 mi dispiace ma fai così cioè vai da uno psicologo e ti rimuove queste cose non lo so fai con l'autosuggestione è una macchina molto strana che molta gente prende allora il punto è che è irrevocabile è uno solo sta lì il battesimo non c'è bisogno di ripeterlo è sempre potente sempre potente dice lo sento poco riattingi al tuo battesimo ma è un deposito che sta lì non può essere irrevocato uno lo rifiuta perché niente ti toglierà la tua libertà nemmeno un dono di grazia così bello credere il perdono dei peccati credere che la mia vita può cambiare per l'amore di Dio credere che Dio mi può trasformare dandovi un nome nuovo mettendole nella mia mente la sua croce vincendo il maligno per me insegnandomi a combattere con l'umiltà che è l'unica arma vera della nostra vita chiedendo aiuto ai santi professando la fede rinunciando al male entrando nel nulla delle acque del battesimo e sperimentando la sua potenza assumendo la condizione di re sacerdote e profeta vestendo di luce difendendo la mia fede e imparando a da per la grazia di Dio per la potenza dello Spirito Santo avere occhi nuovi che vedono l'invisibile orecchie nuove che ascoltano l'ammaestramento di Dio umilmente fiuto per sapere di cosa sa la vita tatto per avere relazioni d'amore e gusto per avere il palato delle cose veramente buone e imparare a rigettare il male allora sapete come finiamo? finiamo che ci rinneghiamo il maligno e professiamo la fede? va bene? ci alziamo in piedi e rivacciamo le nostre promesse battesimali fratelli carissimi in forza della vostra fede memori delle promesse del vostro battesimo rinunciate al peccato e fate la vostra professione di fede in Cristo Gesù e la fede della Chiesa nella quale siamo stati battezzati rinunciate al peccato per vivere nella libertà dei figli di Dio rinunciate alle seduzioni del male per non lasciarvi dominare dal peccato rinunciate a Satana origine e causa di ogni peccato rinunciate credete in Dio Padre Onnipotente creatore del cielo e della terra credete in Gesù Cristo suo unico figlio nostro Signore che nacque da Maria Vergine morì e fu sepolto e risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre credete nello Spirito Santo la Santa Chiesa Cattolica la comunione dei Santi la remissione dei peccati la resurrezione della carne e la vita eterna questa è la nostra fede questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù nostro Signore Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci da noi il Signore sia con voi vi benedica Dio Nipotente Padre Figlio e Spirito Santo Padre